Vediamo una dimostrazione pratica di quello che si può imparare qui, cioè colpire più versagli a distanze indefinite con un angolo di sito indefinito e prenderlo al primo colpo senza dover storrezzare usando il reticolo balistico perché con le ottiche che usiamo noi il reticolo balistico non è altro che la copia dei movimenti della torretta. Quindi in miliradianti abbiamo numeri 012345 01 sono 10 scatti, un miliradiante sia in deriva sia in alto. Una volta mappati bersagli io so esattamente dove mirare con le correzioni mirando nei mili radianti del reticolo, quindi muovere le torrette non se ne parla a meno che quando io ho misurato la velocità questa giornata ha una velocità differente allora li vero in up and down oppure se c'è vento e non mi importa neanche più se qui c'ho scritto 00 perché è un influente, è un influente perché tanto io una volta settato il cucile miro con le reticolo balistico. La piastra là sotto sono 340 metri di solito non ci spariamo mai ma io l'ho mappata sono 341 metri a meno 14 angolo di sito quindi proviamo a prenderlo col primo colpo allora rifacciamo da sotto, facciamo da sotto e andiamo su? Sì, va bene. Allora, bersaglio a 340 metri in basso a meno 14 gradi preso andiamo su? Andiamo su, ce n'è un altro un po' più in alto. Ginestre? Sì a 500? No ginestre scusa il primo bianco subito. Ah ok, sì. Aspetta è che devo mettere, fa fatica a mettere, ok ci sono. 390, 380 no, sì 390 numero 3, questa è una delle piastre nuove che sono molto più piccole, quella di prima era 390, questa è 403 ci sei? Ci sono 403 455 confermo 455 tra l'altro center mass ci sei? Numero 6, 500 ci sono bello, bello, bello se ne sono due, tiro prima la grande poi la piccola. Ok confermo, quando vuoi alto di un mille, eh sì un mille preso, center mass center mass. E l'importante è vedere colpa e correggere subito. Vado nella piccola che gonga anche piccola. Numero 4, cioè un numero 8 ma numero 4 nella piastra. Sì. Sinistra? Sì di meno di un mille. Gone. Gone. Woo! Pesco 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 Quando vuoi, luce verde Pesco Well, sei se sei ti dico sei a Mezzo mil in basso e Meno di 0,25 a sinistra Pesco 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 quando vuoi crisi in proposizione gambe incrociate tiro 300 40 metri dopo conferma gong e lungo basso sì ma di poco l'hai colpito ma con una schezza a